Sono stati consegnati i primi tre autobus qualche mese fa, sono in procinto di conclusione delle procedure, la consegna agli altri quattro autobus e tra l'altro anche la possibilità di insediare otto colonnine ricaricabili, quindi questo è un investimento importante che si aggiunge a quello dello sharing mobility, che comunque dà quell'impronta di sostenibilità nei trasporti anche qui alla città di Trani e soprattutto trasporti che siano sempre più sostenibili e a favore dei cittadini. Si stanno concludendo delle procedure importantissime su scala regionale proprio per quanto riguarda i trasporti, la 275, la 172 che si concluderà entro la fine dell'estate quasi certamente e la consegna di mezzi nuovi, ovviamente stiamo parlando di mezzi che siano sostenibili, quindi a questo punto si sta facendo proprio un gioco di rete, di squadra e di programmazione che vede sempre al centro un servizio sempre migliore per i cittadini pugliesi in primis e per i turisti che arrivano nelle nostre terre e che sappiamo benissimo essere aumentati notevolmente.